Buongiorno a tutti dalla bellissima Siena comincia il firma day, la raccolta di firme per chiedere ufficialmente al governo la diminuzione delle tasse universitarie specialmente per le fasce medio-basse e soprattutto l'esenzione completa per le fasce più basse in assoluto. Stiamo raccogliendo le firme, ci sono diversi studenti che stanno rispondendo positivamente e questo è un segno che non è solo il Movimento 5 Stelle che vuole questo, ma tutti gli studenti, una generazione intera che vorrebbe laurearsi e ricordiamoci che l'Italia ha il tasso di laureati più bassi d'Europa, diminuiti del 6,5% negli ultimi 5 anni.